Ciao, sono Diana e sono iscritta al secondo anno della laurea magistrale in International Business Management. Perché hai scelto la Liuc? Cinque anni fa ho scelto la Liuc perché volevo iscrivermi all'università molto accreditata e che fosse tra le migliori in Italia per l'economia aziendale. Inoltre, informandomi, ho scoperto che non solo offriva molteplici percorsi di studio, ma anche molteplici opportunità per andare all'estero attraverso un Erasmus, uno stagio all'estero piuttosto che un double degree o una summer school. Perché hai scelto il tuo corso di laurea? Non ho scelto il mio corso di laurea perché si tratta di un percorso di studi completamente offerto in lingua inglese che mi ha permesso di migliorare notevolmente la mia conoscenza della lingua e che mi sta preparando per un lavoro sia in Italia sia all'estero in un'azienda internazionale. Come vivi la tua esperienza in Liuc? In Liuc mi sono trovata benissimo, ho avuto dei professori molto qualificati, ho seguito dei corsi molto interessanti, ho partecipato a delle attività didattiche quali lo space in behavior e il business game che sono stati molto stimolanti e grazie al mio corso di laurea specialistica in International Business Management ho potuto conoscere anche molti studenti provenienti da tutto il mondo. Cosa pensi di fare una volta laureata? Grazie al servizio del placement, sto già frequentando uno stage in un'azienda commerciale multinazionale e vorrei continuare in quest'ambito in maniera tale da apprendere quante più esperienze possibili e tra cinque anni mi vedo un ruolo dirigenziale che mi permetta di mettere in atto tutte le conoscenze apprese in Liuc.